tre cose da tenere presenti quando si vuole impostare una carriera di successo da avvocato allora non sono gli slogan che magari leggete sulle riviste di settore l'invocazione all'essere industrializzanti imprenditori e tutte quelle robe lì tecnologia ma sono veramente i basi che da cosa li capite li capite dagli annunci che i grossi studi e mettono fuori per esempio su quindi prima cosa l'inglese l'inglese perché magari io non dovrò mai lavorare in inglese certo ma i vostri potenziali migliori clienti sono stranieri perché sono quelli che pagano meglio ovvero studi internazionali che vi affidano dei lavori per l'italia seconda cosa sicuramente il voto di laurea perché dite guarda che non è quello che fa la differenza certo che non fa la differenza però certifica il fatto che sappiate studiare quindi apprendere materie nuove terza cosa materie specialistiche perché all'inizio non ci interessano i generalisti ma uno che faccia cose molto precise quindi mettetevi e andate in un grosso studio grazie 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 grazie